Durante alcuni servizi di pattugliamento in aree boschive effettuati dai carabinieri forestali del nucleo CITES di Palermo, supportati dai militari della tenenza di Ribera, è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria un operaio cinquantenne della provincia di Vicenza, fermato mentre stava esercitando la caccia in località Bonsignore, nel comune di Ribera. In particolare l'uomo è stato sorpreso mentre svolgeva l'attività venatoria con mezzi non consentiti nei confronti di specie particolarmente protette e di specie non cacciabili. Durante le successive verifiche i militari dell'arma hanno quindi sequestrato il fucile utilizzato dall'uomo, cinque richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, varie cartucce calibro 12, nonché oltre 100 esemplari di avifauna battuti appartenenti a specie protette. Ai cacciatori i militari dell'arma raccomandano la dirigente applicazione delle regole e delle norme previste nella specifica materia. In particolare viene ricordato dal comando provinciale di Agrigento dei Carabinieri il rispetto delle distanze di sicurezza dalle case 100 metri, dalle strade 50 metri e dalle macchine agricole operatrici 150 metri, con particolare attenzione alla direzione dello sparo e a tutte le altre norme a salvaguardia dell'ambiente agricolo forestale, il rispetto degli orari e dei confini delle aree dove la caccia è vietata, l'utilizzo di un abbigliamento ad alta visibilità che permetta il riconoscimento del cacciatore, ed ancora la massima attenzione verso le specie protette presenti nel nostro territorio e il divieto assoluto di utilizzo dei richiami elettroacustici. Infine, al fine di evitare che vengano contestate salate multe, viene ricordato ai cacciatori di portare sempre al seguito tutta la documentazione attestante la regolarità della propria posizione venatoria, licenze, bollettini e tesserino, e l'immediata annotazione dei capi abbattuti sul relativo tesserino.